Ciao, creatura. Io sono Eka Desprendente e benvenuta, bentornata, nel regno di Kusai, A-S-M-A. Questa sera, come avrei letto, 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 degli acquisti del mercato adesso mi metto a lato da qualche parte perché volevo fare le riprese con il telefono dove provo i capi acquistati di antiforte creature perché questo martedì di mercato è stato sostanzioso sia per i capi acquistati che per i prezzi perché sono stati dei prezzi molto molto croccanti 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 quindi direi di andare subito all'all e poi di conseguenza finché chiacchieriamo anche al dry al dry al provare al improvare comunque indosso la camicia quella da 50 centesimi molto bella mi piace molto 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 tra gli acquisti ho preso anche un foulard sai che ne ho preso uno per me la scorsa settimana questa settimana ne ho preso uno per mia zia lascio qui la fantasia ho fatto il video con dove ho ripreso la fantasia non ce l'ho adesso qui perché l'ho già regalato però puoi almeno vederlo insomma ho preso questa fantasia sulla rosa sull'interrosa un po' etnica si può dire un po' etnica non so dimmi tu creatura come al solito iscriviti al mio canale lascia un commento random lasciami like tu sai già non sto neanche qui a dirlo non perdiamoci in alcuni ulteriori chiacchiere qui c'è un piccolo spoiler ora qui guarda che bottino a proposito di camicie a 50 centesimi ho acquistato per 50 centesimi questa bellissima camicia maniche lunghe spero che mi vada bene ma poi con il dry lo scopriremo io ancora non ho registrato non le ho provate questa camicia con questa fantasia floreale queste roselline o fiorelline rossi mi piace perchè è made in india ed è tutta di cotone si vede qui vabbè 100% cotone ah i bottoni credo in madreperla quindi cioè qualcuno ha detto 50 centesimi attenzione comunque la la fantasia mi è piaciuta mi è piaciuta tantissimo ho preso non so non c'è scritto la taglia ho posizionato una manica sopra il mio braccio e mi sembrava non l'importante che non sia troppo piccola se anche troppo grande non importa ti anticipo già che questa è stata la giornata dei pantaloni 1 euro quindi spoiler per mio padre ho preso alla modica cifra di 1 euro questa maglietta nuova di scout una polo blu semplice però il cotone è molto buono perchè questa è una marca che in negozio di solito costa parecchio e diceva che è stata 1 euro perchè è tipo leggeramente spiattita qui che però non si nota neanche cioè con gli occhiali non me ne sono neanche accorta ho dovuto chiedere al tizio della bancarella scusa ma perchè è 1 euro questa fa perchè era in vetrina ed è leggermente spiattita praticamente quella è la mia bancarella preferita come forse ho già accennato nei video precedenti dove tengono le cose a 1 euro 2 euro e al sabato 3 euro così non so perchè a volte i difetti sono talmente impercettibili che io non li vedo e devo chiederli e quindi a volte dico ma questa è 1 euro e sono tutte cose di negozi costosi di marca brand che però appunto hanno o sono capi che sono stati in vetrina quindi scoloriti o sono delle taglie che hanno sbagliato l'etichetta hanno scritto una taglia piuttosto che un'altra oppure hanno dei taglietti delle cose insomma di difetti che possono essere buchetti tagli cuciture venute male ecco e quindi brand famosi non possono vendere queste cose e allora le ritrovi ai mercatini però se sai cucire i buchi se sai cucire o se te ne freghi altamente perchè tanto sono cose che metterai in casa così tipo tutti i miei pantaloni da biscotto hanno tipo dei buchetti o dei graffetti che ho cucito e già ecco per dire oppure quei pantaloni che avevo preso a 2 euro quelli lì avevano la taglia sbagliata e questa volta sono stata fortunata perchè la bancherella aveva messo il prezzo di un euro per curati di capo che sia un difetto grosso che sia un difetto tipo questo che non si vede neanche comunque il tessuto è bellissimo anche il colore è un bel blu notte e bella dato che mio padre comunque compie l'anni il 20 aprile e io il 21 allora li farò un completo perchè ho preso anche dei pantaloni adesso li vediamo insieme tanto può anche usarli da casa se non gli piacciono per uscire tu lo sai bene creatura per me ho acquistato sempre e la stessa bancherella ho comprato da un sacco di roba no credo 5 cose da un euro ho preso questa felpa con cappuccio e cerniera questo buchetto che andrò a cucire con il vino nero poi non si vedrà più è tra quelle giacche un po' così casual casual si si e le felpe la felpa è un mix perchè sotto non ha la cucitura sono fatte apposta queste che si arricciano un po' sul sotto mi piace perchè ha il cappuccio è taglia unica quindi vedremo insieme durante il dry se ho fatto un buon affare comunque ho pagato un euro se proprio me la tengo in casa d'inverno c'era anche il blu però avevano più o meno lo stesso difetto tra il blu e il nero ovviamente prediligo il nero dato che è taglia unica comunque non lo so preferisco il nero non è che l'altra se l'altra blu il senso del mio discorso era che se l'altra fosse stata blu ma non so XL così magari per la taglia mettevo da parte il colore ma essendo entrambe taglia unica prendo il colore che preferisco ecco quello sono riuscito a spiegarmi che è senza neanche troppi non è che tagliato vabbè e poi aspetta devo fare finta di guardarmi finché lo provo e dire bello oppure no no non mi sta mbocciato oppure sì sì che poi alla fine sarai tu creatura nei commenti a decidere se si buona a fare pure no 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 questi qua anche se non mi vanno bene io ho già che belli allora c'era questa bancherella allora per chi non mi segue su IG voglio fare il vlog ho dimenticato il telefono a casa prossimo martedì mi devo ricordare c'è qualcuno mi mandi dei messaggi già delle 7 di mattina Ecate ricordati il telefono l'avevo messo sotto carica in camera era 100% beh lo carico io l'ho dimenticato bravissimo complimenti Ecate perché avrei voluto farti vedere anche perché la prossima idea di vlog di adesso facciamo il try o nulla ma la prossima volta farò il mostrare racconta cioè quello che ho comprato poi ti mostro anche la bancherella che cosa c'era cioè volevo fare una cosa del genere porca miseria vabbè comunque in questa bancherella c'erano a cosa un euro cioè martedì è stato allora martedì proprio coi presto tutto un euro comprato tranne la camicia 50 centesimi c'erano dei jeans c'era questo modello qua che ho preso io bellissimi ho trovato l'unico taglia della mia taglia che fortuna c'erano altri jeans ma il tessuto non era tanto bello poi c'erano altri pantaloni mi piacevano ma non mi piaceva il colore e tutti ma per un euro per un euro lo prendo se dopo non me lo metto c'è quel colore marroncino caccarella che mi non piace non riesco a abbinarlo con niente perché nella mia testa non mi piace non riesco a metterlo adesso ti faccio vedere questi jeans sono avuta l'ora di provarli perché secondo me con quella camicia poi top 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 allora ovviamente sono nuovi denim celebrities non so che marca sia taglia L colore black ma che belli che sono erano proprio dentro un sacchetto cioè erano tutti nuovi dentro ai sacchetti alcuni erano tirati fuori perché le persone giustamente li aprono per vedirli però sono totalmente nuovi slim qua c'è scritto cioè questi qua erano da negozio non so come siano finiti tra le rimanenze di magazzino forse è un modello che non forse è un modello un po' troppo anni 90 che a me piacciono perché sono rimasta indietro con la moda cioè io metto quello che mi piace non quello che va di moda sai forse sono vita bassa dunque davanti sono così sono di un bel tessuto bello morbido ma allo stesso tempo resistente chissà quanto costavano prima e poi sono tutti in teoria a sigaretta e il dietro mi piace il dietro è molto più bello del davanti perché ha questa fibbia qua e poi ha un sacco di tasche l'importante che non mi siano stretti se mi sono larghi si può sempre rimediare vediamo fanno proprio un bel sedere devo dire non lo so sto improvvisando vedremo 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 spolliciami e mettimi un commentino fammi sapere è stato un buon acquisto un po' non lo so questo è il maloppo che ho acquistato sempre nella pancherella erano due panchere diverse non era quello con i difetti quello dei pantaloni queste sono quelle dei difetti di nuovo torniamo sono tre paglie di pantaloni da biscotto da pasticcino alcuni e devo decidere quale regalare quale tenere per me in modo totalmente egoistico che credo che andrò ad provarli e in base a quelli che mi sono larghi che so che se mi sono larghi a me andranno comodi a mio padre e perché io ho un suo paio di paio io ho alcuni i pantaloni suoi li uso perché a lui sono stretti a me stanno giusti quindi ho capito la sua taglia indossando ovviamente penso che il 99% li ho presi per lui quindi li darò a lui perché sono molto grandi sono una taglia XL questi sono totalmente da biscotto sono larghi ma sono anche elasticizzati quindi ancora più comodi no e questi sono sicura che li vadano sono proprio grandi comodi li può usare per uscire se invece il colore non gli piace può tenerli in casa per stare comodo come un pigiamone secondo me semplicemente c'è scritto XL ma sono magari una XXL perché sono tanto grandi e qui veniamo a noi sono molto indecisa adesso questi perché mi piacciono entrambi anche se io comunque il completo gliel'avrei già fatto perché con due euro avrei preso questo pantalone azzurro con questa t-shirt questa polo blu che secondo me non ci sta male tu cosa ne pensi si può abbinare questi due colori si possono abbinare insieme questo io ne ho ne ho tanti di questi di questi qua tutti neri neri ce l'ho solo neri forse ce l'ho solo neri vabbè e ho preso tre o quattro due o tre no due sicuri ne ho così neri però che sono quelli da pasticcino perché hanno questa decorazione qui a lato che è credo sia passamaneria e grigio scuro non li ho mai avuti quindi appena l'ho visto grigio scuro lo voglio io però sono taglia XL quindi andrebbero bene forse anche mio padre però come vedi questa XL è molto meno larga di quella XL lì qua devo vedere mi sembrava avessero un taglietto un pochietto non so ma senza occhione non vedo una pippa non vedo niente non so se questi hanno dei bocchini o se è perché non hanno la colis qua ma nessuno dei miei ce l'ha e te lo puoi anche creare comunque che è il cordone quello che si tira qui per stringere i pantaloni elasticizzati però appunto questi me li vorrei trarre io però boh vediamo perché mi piace grigio scuro non li avevo mai visti e quindi ho detto egoista egoisticamente li voglio ok e poi e poi questi mi sa che mi ritengo io perché ho visto un dettaglio che non è molto da uomo o hetero cisgender però non mi direi mai nella vita forse questi sono più streghi questi pantaloni che nero su nero non si vede ma poi vedrai meglio cercherò di trovare uno sfondo chiaro voglio mettermi in poggiolo vediamo se riesco con lo spazio perché c'è luce naturale quindi mi da l'idea che si vedano meglio anche i difetti se ci sono ah no ecco questi mi ritengo io perché hanno un bel taglietto qui che tanto andrò a riparare chi ti guarda sotto le ginocchia voglio dire chi ti guarda sotto le ginocchia questa è della marca la gomi made in italy non so se lo conosci io non lo conosco qua dice addirittura XXL ma non mi sembrano per niente XXL mi sembrano una L sembrano una L sì vabbè allora questi sono molto belli perché sono da pasticcino però allo stesso tempo guarda qua guarda che chicca allora intanto hanno la cerniera hanno le tasche con la cerniera un euro e poi qui hanno la passamaneria che però è argentata un po' glitterata la tasca non è finta no questi mi sa che me li tengo io ma li ho tutti neri accidenti grigio scuro però è beh potrei regalarglieli poi fregarlieli perché avevo regalato un altro paio che non si è mai messo quindi quindi potrei regalarglieli e poi dopo vedo che se non se li mettere me li metto io sì mi sa che questi siccome hanno un difetto grande me li tengo io forse allora anche quelli grigi scuro hanno un difetto grande devo controllare meglio comunque vabbè li andrò a provare tu mi dirai sì no comunque un euro al paio quindi ho comprato quattro pantaloni da un euro tre da biscotto uno jeans nero figo poi ho preso una polo a un euro una felpa a un euro quindi allora 6 euro e poi ho preso un foulard a un euro 50 e una camicia 50 centesimi quindi direi che sono preso un po' di cose con pochi suddini tante cose carine comunque vedremo poi dopo nel tries che tu in realtà avrai già visto ma io vedrò dopo e dirò e vedremo se è stato davvero un affare perché ok pagato un euro ma se poi non ti stanno sono comunque soldi buttati anche se è un euro perché non li puoi mettere io sono di questa idea qua perché tanti dicono eh vabbè ma per un euro potevi comprarlo ok ma se dopo sono buttati anche un euro non è poi adesso che sono abituata a comprare un euro e 50 centesimi quando vedo tre euro dico fuori budget a troppi soldi mi si sta abbassando sempre di più la sticella della cioè veramente io non ho parole infatti quando vedo i video porta portese così così che tutti dicono wow quanto ti invidio ma io ho mercato di rovigo sono contenta così veramente faccio gli affari proprio a dove comunque ci uscirò con questi qua perché sono da pasticcino ricordando che i pantaloni da biscotto sono i pantaloni comodi per stare in casa i pantaloni da pasticcino sono quelli comodi però con cui puoi anche uscire ok volevo fare la leggenda con i significati delle parole che dico inventate forse un giorno si lancerà la moda forse anche no basta che non mi fregate i pantaloni da biscotto da pasticcino della mia banchiera preferita poi potete fare quello che preferite spero che questo video ti abbia fatto rilassare speriamo che martedì prossimo io riesca a fare l'idea del mercato con le riprese che sarebbe bello anche finché io ti racconto questa cosa tu puoi solo immaginare no ah c'era questo c'era quell'altro per esempio c'erano le altre ciabatte a 3 euro altre scarpe a 3 euro con scape col tacco molto strane ecco non ho comprato niente di quello però detto così non è come se io adesso lo racconto immagino io ti lo racconto poi qua compare fatto con il telefono il video dove dimostro che effettivamente è reale ciò che sto dicendo perché uno può dire ma vada dice che cavolate e invece è vero è vero e e niente spero che anche tua creatura possa andare al mercato del tuo paese possa trovare o della tua provincia perché appunto non è il mio paese possa trovare delle bancarelle croccanti frizzanti come quelle che trovo io di solito gli indiani hanno questa tipologia di bancarelle non cinesi non italiani ma indiani che hanno le rimanenze di magazzino oppure quella della bancarella con i difetti è di italiani uomo e donna sposati che hanno questa bancarella e loro hanno anche una bancarella con cose nuove non difetti però di solito tutti si fiondano su quella da un euro giustamente vabbè è sempre super affollata di gente tutte donne di solito e bisogna andare tipo a gomitate perché sennò ti fregano la roba sotto le mani e quindi lì penso che il video più dentro la bancarella non lo farò perché so già che bisognerà sgomitare per per accaparrarsi i capi migliori però nelle altre sì che posso eh ho già visto che è possibile mi ricordo che abbia scordato il telefono ma vabbè e niente eccoci qua con la chiusura del video spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia soprattutto e ti abbia soprattutto rilassata la tua come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura